Quasi tre ore in scena a 91 anni per interpretare uno dei personaggi più complessi dell'intera drammaturgia scespiriana, ovvero Rellier, nel terzo allestimento di un'esistenza spesa sulle tavole del palcoscenico. Glauco Mauri, dall'alto della sua incredibile maturità professionale e di vita vissuta, ha portato al teatro Petrarca le vicende del vecchio re di Britannia, delle sue figlie ingrate e di quella fedele. Considerata una delle opere più complesse dell'intero repertorio del Bardo di Stratford-on-Evon, Rellier sviscera dolori e bassezze dell'animo umano, vittima quest'ultimo di cecità ed equivoci che non lasciano scampo alla dignità di vivere, se non quando è troppo tardi ormai, anche per una comprensione ultima della verità. Solo un gigante come Mauri poteva tradurre in parole il significato di Rellier e della sua trasposizione scenica. È la più titanica tragedia di Shakespeare, dramma dell'amore padri e figli e della follia, ha detto l'attore. Non ho mai smesso di credere che bisogna sempre mettersi in discussione, accettare il rischio pur di far sbocciare idee nuove e per meglio comprendere quel meraviglioso mondo della poesia che è il teatro. Ed eccomi qui per la terza volta alla mia veneranda età, impersonare Lier. E al Petrarca lo ha fatto magnificamente, tenendo in pugno scene pubblico in questo nuovo adattamento dell'opera che, come giustamente ha fatto intendere lo stesso Mauri, si perfeziona di pari passo con l'età e l'esperienza attoriale.